Noi siamo pronti a prenderci tutta la nostra parte di responsabilità, però quello che spero mi accomuni è che alla fine, tra qualche anno, ci sia la possibilità di dire e vabbè, ce l'abbiamo fatta come ce l'abbiamo fatta nei 14 mila, per i 15 mila dipendenti di Chrysler a Detroit, ce l'abbiamo fatta per i 60 milioni di cittadini italiani. E io ne sono convinto. Non voglio correggere, Presidente, 15 mila in questo edificio solo, in la zona di Detroit ne sono più di 25 mila. Qualcuno portiamola a Melfi, no? Ne ho abbastanza a Melfi, grazie. Ne ho abbastanza a un modo... No, no, ne ho abbastanza di persone per fare il lavoro che dobbiamo fare, quindi ne abbiamo abbastanza addetti a lavoro. Prima che partiamo, partiamo...